Ciao a tutti, oggi vi mostro la lampada LED della Jolly Line da emergenza per l'auto. Ha una base da appoggiare in terra magnetica per attaccare l'autovettura. Questo ampio vetro che emette una luce rossa lampeggiante è una sorta di triangolo elettronico, lo fa vedere anche qui il simbolo. Invece di avere il triangolo normale, questo lo tirate fuori al volo, lo accendete e segnala subito il pericolo. È questa in definitiva, la potete appoggiare in terra, la potete attaccare l'autovettura perché è magnetica, basta una pressione e questa inizia a lampeggiare. Adesso qua c'è luce, non vedete il tipo di lampeggio però in caso di scarsa luminosità si vede molto anche da lontano. È molto pratica, la si ripone nel bagagliaio e si fa prima che a montare il triangolo. Ve la consiglio perché in situazioni di emergenza è molto molto utile. Un saluto dal vostro Ivano. Grazie a tutti.